Un programma presentato da Buonasera e ben ritrovati a Pianeta Alma, puntata numero 3 dello spazio di approfondimento dedicato da Fano TV all'Alma e Eventus Fano. Acque sempre agitate in casa Granata, la situazione in campo non è che sia migliorata granché dopo il pareggio di Tivoli, classifica che resta estremamente critica con la squadra Granata che oggi sarebbe retrocessa direttamente in eccellenza, ma anche fuori dal campo la situazione sembra essere tutt'altro che confortante. Ma analizzeremo l'intero quadro con il presidente del club Granata, Salvatore Guida, che torniamo ad ospitare. Buonasera e bentornato. Buonasera, buonasera a tutti, buonasera a Leandria. Seguiamo cronologicamente l'ordine degli eventi. Partiamo da domenica scorsa, l'Alma gioca attivo, vediamo le immagini, una partita nella quale sicuramente la squadra di casa a condurre il gioco e a creare le occasioni da gol più nitide, tant'è che ne sfrutta quasi subito una per portarsi in vantaggio. Alma che non riesce a produrre almeno nel primo tempo una reazione convincente. Poi vedremo come il calcio, anche in partite che sembrano in qualche modo incamminarsi verso un esito negativo, si possa comunque produrre una svolta. Vedremo i due rigori trasformati da Gonzalez con l'Alma che ha carezzato per qualche minuto se era nel recupero. L'idea di portare a casa una vittoria che sarebbe stata preziosissima. Il presidente Guida era presente a Tivoli. Come ha vissuto questa partita e quali considerazioni ne ha portato dietro? Guarda, emozioni tante. Io ho visto in ogni caso una buona squadra che ha reagito dopo uno svantaggio. Per l'amor di Dio ho meritato dal Tivoli il vantaggio come giustamente hai detto tu nel primo tempo. Nel secondo tempo ho visto comunque una reazione della squadra. Siamo stati premiati da due calci di rigore che secondo me c'erano entrambi. Quindi diciamo che la fortuna ci ha baciato per una volta e poi siamo riusciti a complicarci la vita nell'ultimo minuto. Purtroppo il calcio è anche questo. Talvolta è bello e brutto anche per questo. Una vittoria che avrebbe avuto il sapore della svolta anche se la situazione sarebbe rimasta complicata. Vincere una partita condotta in sofferenza e in quel modo lì avrebbe probabilmente conferito una spinta sul piano della morale non indifferente. Assolutamente sì. psicologicamente sicuramente i ragazzi sarebbero stati molto più motivati e avrebbero avuto appunto una spinta emotiva data da un risultato a un più tre in classifica importante. Però sono conto molto in questo gruppo di ragazzi perché continuo a dirlo e lo dirò sempre. È un gruppo coeso, è un gruppo compatto ed è un gruppo che secondo me alla fine del campionato mi auguro che possa dire la sua, ne sono quasi certo. L'1-1 ad una decina di minuti dal novantesimo e il 2-1 sempre con Gonzalez dal dischetto in pieno recupero. Recupero che è stato poi allungato perché c'è stato un cambio. A quel punto forse una squadra più tranquilla, più serena di quanto lo possa essere l'Alma in questo momento avrebbe difeso quel risultato. Sì, però sai in una posizione classifica come questa il gruppo è giovane quindi magari in quel momento la palla scotta si ha paura anche di fare una scelta sbagliata. Mi metto anche io nei loro panni ed è comprensibile. Quindi io non mi sento di bacchettare nessuno, mi sento sempre comunque di dire bravi, bella prestazione. Che il Fano sia una squadra giovane, lo testimonia la vittoria ormai conclamata nella graduatoria giovani di valore. C'è anche un premio economico che sarebbe però non riconosciuto in caso di retrocessione. Assolutamente sì, ci auguriamo di rimanere nella categoria non tanto per il premio economico sicuramente anche per quello ma anche per una questione di prestigio e credo che la squadra tutta e i ragazzi lo meritino. Alma che cercava appunto a Tivoli quella vittoria che manca da troppo tempo, il dato negativo del ruolino di marcia della squadra granata sta fondamentalmente nel numero di vittorie. Troppo poche, 4-5 se consideriamo anche quella di Fossombrone cancellata a tavolino perché poi fondamentalmente il Fano ha perso relativamente poco rispetto alle altre squadre di coda e che quei 13 pareggi pesano come altre tante mezze sconfitte. Assolutamente sì, io l'ho analizzato proprio questa settimana neanche a farlo apposta e ho guardato il rendimento... Anzi i pareggi nel frattempo sono diventati 14. Vero, l'ho analizzato sia il rendimento nella prima parte di stagione, quindi la media punti con il mister Scorsini 11 partite 11 punti, con mister Manoni 7 partite 7 punti. È vero che con quella media punti lì resti sempre basso, però oggi quei punti pesano tanto, quelle vittorie mancate come giustamente dici tu pesano tanto, anche se molto spesso per una squadra che doveva salvarsi come è stata costruita, almeno quest'anno, ringraziamo di averli fatti quei punti. Vedremo tra poco anche le partite che attendono l'Alma, due in casa, due fuori, servono appunto le vittorie, ci si può attendere questa progressione che sarebbe in qualche modo in contrasto con il rendimento avuto sino adesso in questo finale di stagione? Ci auguriamo di far sempre del nostro meglio, loro sono sicuro che danno il 101% in campo, sono sicuro che renderanno sempre il massimo delle loro capacità, perché lo ripeto, è un gruppo giovane, è un gruppo che ha voglia di fare e secondo me anche loro sono i primi a star male per la posizione in classifica in cui si trova la squadra. Non è stata una settimana però come le altre, quella di avvicinamento alla gara casalinga di domenica prossima con il Roma City impegnativa, perché il Roma City sta viaggiando molto forte ed è in quota play-off, ieri infatti i calciatori dell'Alma di Antusfano hanno diffuso un comunicato di cui vi diamo conto e che è già stato pubblicato anche dalle diverse testate, che recita nonostante i nostri solleciti volti a rispettare le scadenze mensili, la società non è in grado di fornire certezze, ci siamo quindi rivolti nuovamente all'Associazione Italiana Calciatori per capire quali possibilità legali abbiamo, tuttavia rivolgiamo un ultimo appello al club affinché adempia con le scadenze concordate al versamento dei compensi maturati, comunicato che prosegue, abbiamo continuato e continueremo ad onorare la maglia finché ci sarà possibile anche attigendo alle nostre risorse personali, dispiace per la città e per tutti i nostri tifosi che ci sono vicini e ci sostengono, avremmo voluto un finale di stagione più sereno. I calciatori dell'Alma di Antusfano sottoscrivono questo documento, ci sono state fornite le firme dell'intero gruppo, si attendeva un'iniziativa di questo genere, il Presidente come la spiega e se la giustifica? Allora guardi, fondamentalmente io di giustificare non ho bisogno sicuramente niente e nessuno, ai ragazzi è stato detto più volte che c'erano delle criticità, quindi che avrebbero dovuto avere una precedenza rispetto a loro, però questo non voleva dire che chiaramente avevano un ritardo. Io mi sono permesso questa sera di portarti dei conteggi, così possiamo anche rendere pubblici quei conteggi, così si avrà più compiutezza da parte del pubblico di capire realmente qual è l'entità di questo scritto. Io me la sono presa con questa nota diramata dai calciatori, non perché l'han resa pubblica, ci mancherebbe, ognuno nella sua vita può fare quel che vuole, ma perché nella vita, specialmente quella di un calciatore professionista o semiprofessionista, come in questo caso è la LND, perché si vuole fare semiprofessionisti, bisogna rispettare delle gerarchie e dei ruoli. Un comunicato del genere è stato mandato di nascosto, mentre invece sarebbe dovuta essere edutta almeno la parte... Quindi non avrebbe avuto sentore della diffusione di questo comunicato? Assolutamente no, ma non solo il Presidente, il Presidente può essere anche l'ultimo a sapere, ci mancherebbe altro, ma almeno le persone che condividono lo spogliatoio con loro, parliamo di staff, parliamo di responsabili dell'area tecnica, parliamo di direttori, che sono lì sicuramente non a prendere il suolo o ad abbronzarsi, ma sono lì sicuramente a cercare di dare il loro contributo verso questa squadra di ragazzi. C'era stato però comunque un ulteriore contatto in questi giorni con rappresentanti dell'Associazione Italiana Calciatori, questo vi risultava? Anche quello non è stato informato alla società, infatti i rappresentanti sono sempre benvenuti quando vengono all'interno delle nostre strutture, ci mancherebbe altro, però chiaramente ci aspettavamo, come prevede anche il regolamento, che almeno una persona da parte dei nostri tesserati, che l'ha quindi contattati, coinvolti per scambiare quattro chiacchiere insieme, avresse avvisato questa società, mentre invece la società non era informata di nulla. Questo per noi che sono Presidente e tesi un giornalista non vuol dire nulla, ma per una persona che è un tesserato di un club invece è una piccola infrazione, che secondo me sarebbe da starci un attimino più attento proprio per una questione di rispetto di educazione del club di appartenenza. Per quello invece che riguarda il comunicato, e adesso guarderemo e approfondiremo bene i numeri, anche se vorrei dare il giusto peso a questa cosa in questo momento, perché in questo momento siamo, e lo ricordo sempre, siamo a quattro partite alla fine del campionato. La fotografia della classifica di questo momento ci dà matematicamente retrocessi, quindi io darei un attimino più importanza al campo, parlare sicuramente anche di questo, ma ritengo, i numeri adesso li guarderemo, ritengo che non era né il modo, né il momento e né il tempo di fare un'azione del genere, e non c'era una criticità tale da permettere e da giustificare una cosa del genere. Se i ragazzi fossero stati indietro o con dei pagamenti ritardati da molte mensilità e ci fossero delle criticità di vita, di sopravvivenza, di sussistenza, una cosa del genere, io potevo anche sicuramente comprenderla, essere stato io il primo a fare il mia colpa. In questo caso qui invece una buona parte di loro sono giovani, come abbiamo detto, un'altra parte di loro sono giovani e non vivono di calcio, una minima parte di loro hanno sicuramente delle difficoltà, delle difficoltà dove ricordo che adesso conti alla mano, siamo indietro di due mensilità. Due mensilità, la federazione ci permette di arrivare al 30 giugno come ultimo pagamento, quindi entro il 30 giugno devo essere saldate le somme. Ricordiamo che non è in vigore il regolamento che invece disciplina l'attività professionistica per cui i pagamenti sono concordati fra le parti fondamentalmente. Sì, però noi cerchiamo di essere precisi e ripeto, due stipendi indietro non vuol dire essere chiaramente premiati o lodevoli, però sicuramente possiamo essere un modello da seguire perché molti altri club, forse tutti gli altri club che sono in una posizione di retrocessione come la nostra, non credo che abbiano una regolarità nei pagamenti come l'abbiamo avuta noi, perché adesso che andremo a guardare nello specifico il conto alla mano ti renderai conto anche da solo che dalle cifre finali, quelle che mancano quindi a terminare la stagione, quindi al 30 giugno lo ricordo, a quello fino a oggi versato dalle casse della società ai nostri tesserati atleti, non credo di essere così tanto negativamente o perlomeno non credo di meritare quel comunicato che è stato diramato ieri. Quello me l'aspetto se fossi stato indietro di tre mesi, quattro mesi, se fossi stato cattivo se non avessi mai comunicato ai giocatori di star lavorando per poterli accontentare nel corso del brevissimo periodo, quindi in quel caso lì, quindi se non ci fosse stata una comunicazione potevo comprenderla, ma in questo caso qua essendoci stata una comunicazione, essendoci stato un giustificativo, fatta tutta questa operazione completamente alle spalle della società, purtroppo mi sovviene da pensare che da parte di qualcuno, non di tutti per l'amor di Dio, perché il gruppo è veramente continuo a dirlo e lo dirò sempre, un gruppo fantastico, ci fosse un disegno artefatto di danneggiare senza alcuna ombra di dubbio la società a livello mediatico, a livello pubblicitario, a livello di brand, a livello di marchio, a livello di società, sicuramente non volendo bene i colori di questa squadra che in questo momento ha quattro partite critiche dalla fine del campionato, ha bisogno di tranquillità e per due mesi di ritardo di stipendi, secondo me quella criticità con un comunicato del genere reso edotto, poi secondo me non è stata una scelta felice. Sì, guarda, allora i calciatori hanno parlato con noi continuamente perché noi siamo quasi sempre presenti al campo, quindi il confronto è quotidiano, chiaro che di questa roba qui se n'era parlato e sicuramente ci adopereremo per fare, non c'era un momento, non c'era una criticità, non c'era ecco quello che tu mi chiedi, un segnale, un barlume all'orizzonte di dire, oh, han convicato di nuovo l'AIC perché c'è una situazione critica, irrimediabile, irreparabile. Cioè io questa roba qui… Somma, questa presa di posizione vi ha sorpreso? Mi ha deluso, non mi ha sorpreso, mi ha deluso. E allora andiamo appunto a produrre questa immagine che documenta, innanzitutto, ovviamente abbiamo omesso i nomi dei calciatori accanto alle cifre, quanto era stato pattuito all'ordo per la stagione 2023-2024 nella colonna a sinistra, come si può vedere, il percepito e quanto invece deve essere ancora corrisposto, che credo sia il 50%. Esattamente, allora guarda, te lo spiego, abbiamo messo i nomi perché ovviamente i diritti e la tutela della privacy io ci tengo, non come chi mi ha danneggiato mediaticamente, perché ti ricordo che quel comunicato da alcuni miei tesserati è stato messo anche come storia sul reel di Instagram, mi è stato segnalato e questo per un tesserato di una società sportiva non credo che sia il massimo della vita, però non voglio scendere in polemica. Detto questo, sì, come vedi, molti dei nostri giocatori sono giovani, quindi non hanno contratti economici, questi sono soltanto la parte dei nostri tesserati che quindi hanno diritto per contratto al compenso economico. Hai detto bene, nel compenso lordo, quindi nella colonna a sinistra, c'è il contratto per come è stato firmato e sottoscritto per l'intero importo che devono prendere due l'anno calcistico, che sono dieci mensilità. La decorrenza, leggi da quando loro hanno firmato il contratto, quindi da lì scatta il pagamento, che ricordo nei tesserati calcistici viene pagato il mese successivo, entro il dieci del mese successivo, dalla prestazione fornita. Il percepito è giustamente, come ricordavi tu, quello che è stato fino a questo momento, quindi la fotografia di oggi, attualmente versato nelle tasche di ogni singolo atleta, è quello il residuo. Residuo che, capisci da solo, abbiamo tempo fino al 30 giugno, sotto è stato contrassegnato anche il totale che è 52 mila euro circa. 52 mila euro circa per tutti gli atleti. Ti ho contrassegnato i quattro contratti più onorosi della nostra squadra, perché come puoi ben capire, le altre cifre sono di ragazzi giovani, per questo ti dico il comunicato mi ha sorpreso. Mi ha sorpreso perché non tutti quanti vivono di calcio, chiaramente c'è chi lo fa per professione e ci mancherebbe altro, messiere, loro sono bravi e ci mancherebbe altro, però ecco perché non vedevo una criticità tale e negli importi che tu vedi singoli non c'è una criticità realmente importante da diramare un comunicato del genere, perché se le cifre fossero diverse, oppure se alla fine fosse una cifra completamente abnorme, sarebbe un danno. Ma su questa cifra residua c'è la volontà da parte della società di adempiere? Assolutamente sì, ma questo l'ho sempre detto, l'ho detto al primo giorno, ma l'ho detto anche ai ragazzi, il mio impegno è comunque al 30 giugno nessun di voi perderà un centesimo. Indipendentemente dall'esito del campionato? Assolutamente sì, è chiaro che se dovessi retrocedere in eccellenza sarei ulteriormente deluso, ma io mi sono sempre detto un signore e sempre lo farò. Vedi, io anche in questo caso sto applicando la diligenza del buon padre di famiglia, per me quelli sono tutti figli miei, io non deluderò mai un ragazzo che sta con me e anche oggi, anche stasera, nonostante io sia deluso, io li perdono tutti, non ho nulla da perdonare, credo che il perdono sia reciproco, però io l'unica cosa che dico è che non credo di meritare un comunicato del genere, in questo momento della stagione per tutto l'impegno economico, di presenza e di lavoro che ho profuso insieme ai miei collaboratori all'interno di questo gruppo. Quelle cifre che tu vedi, se vi fate un conto con la calcolatrice, significa che adesso il peggiore è dietro di un mese e mezzo di stipendio, per questo il comunicato lo trovo fuori dal mondo in un momento così delicato della stagione, un mese e mezzo facciamo due di ritardo sui pagamenti, in questo momento così delicato della stagione. Tutto qua, questo era semplicemente per chiarire con te, con chi come te ha diramato un comunicato non conoscendo... Che segue che ora ha a disposizione gli elementi per farsi un'idea della situazione e trarre le proprie conclusioni come dovrebbe essere appunto il nostro compito. Io quello, se ti ricordi, nella mia prima conferenza di insediamento ho sempre detto io sono gentile, sono buono ma non sono babbo natale, non mi piace essere preso in giro. Io da quando sono arrivato su questa piazza, in questo club, ho dato tanto, ho detto di amare questo club, ho detto di amare questa città, ho detto di volermi trasferire in questa città, quindi sicuramente non voglio far del male né a questo club né a questa città. Quindi rispondo doppiamente alla tua domanda quando mi chiedi se c'è volontà. Sicuramente sì, quello che ho detto è che gli impegni saranno sempre tutti rispettati. È chiaro che non ci sono solo gli stipendi ai calciatori, per gestire un club di calcio ci sono tanti altri adempimenti da dover fare e c'erano tanti altri adempimenti che non erano stati fatti durante l'anno, che avevano un'equa importanza rispetto a questi. Quindi quando uno dice sì ma non mi hai pagato lo stipendio, sì ma avrò fatto altro in quel momento. Quando uno invece pensa che basta prendere un banco di soldi e metterlo dentro, non è così che funziona una società. Quella è una società destinata a morire. Se può dire ad oggi quale sia l'esposizione da parte della nuova proprietà dal momento in cui ha assunto appunto il controllo dell'Alma? Assolutamente sì, ma c'è bilancio, il bilancio è abbastanza pubblico. Attualmente l'Alma Juventus Fano ha un debito totale complessivo di circa 700 mila euro, di cui il 50% sono ancora incontenzioso con l'ente previdenziale IMPES. Mi riferito a quanto ha profuso la nuova proprietà in questa avventura imprenditoriale? I numeri sono importanti, il conteggio sinceramente non ce l'ho. Sull'ordine di? Sull'ordine di parecchio. Forse troppo rispetto a una serie D e rispetto a una posizione in classifica dove ci troviamo, ma non me ne pento neanche di un centesimo, credimi. Abbiamo un debito che è completamente sereno, tranquillo, perché il 50% fanno capo all'imprenditore Gabellini, il quale se ne è fatto sempre onore e carico, il contenzioso è suo, per l'amor di Dio, persona solvibile, persona per bene. L'altro 50% è dilazionato e regolarmente si sta pagando. Non c'è un euro di debito verso le banche, ci sono pochi euro di debito verso qualche fornitore, ma roba che non supera i 10-20 mila euro. Quando siamo entrati c'erano circa 48-50 mila. Adesso abbiamo abbassato di parecchio quell'esposizione. Credo di non aver mai fatto mancare nulla a questo club, in ordine di trasferti, in ordine di pranzi, in ordine di cene, in ordine di energia elettrica, di gas, di docce. Quello che è l'ordinario, il tè che può essere l'integrazione, che può essere la bottiglina d'acqua, proprio dell'ordinario. Essere detto in settimana, e mi è venuto un sorriso, alcuni hanno detto che la squadra non si è allenata perché c'è l'erba alta al campo, i custodi hanno incrociato le baraccia, credimi, veramente lì mi è venuto da piangere. Abbiamo pochissimo tempo di esposizione, quindi torniamo al campo. Quello che conta. Innanzitutto un'occhiata veloce ai risultati dell'ultimo turno e alla classifica, ma ormai li conosciamo quasi a memoria. Alma che è al penultimo posto in classifica, in realtà al terz'ultimo, stando appunto il rapporto di forze con il vasto Girardi, definito dal quoziente Reti, al momento sarebbe retrocessa perché è in ritardo di otto punti dalla sest'ultima, come vediamo appunto dalla classifica che possiamo scorrere. Mentre per quello che riguarda il calendario, andiamo a riepilogare le partite che separano dalla fine della stagione regolare, domenica in casa con il Roma City, poi trasferta a Sora, altra trasferta da Vezzano, in casa con il Real Montero Tondo. Possiamo vedere anche velocemente qualche immagine della gara d'andata con il Roma City, avversario che era stato attrezzato sin dall'inizio per un campionato di vertice, poi ha perso quasi subito il treno delle prime, ma si è rifatta sotto nelle ultime stagioni, vanta il capocannoniere del girone, insomma una partita molto complicata in cui servirà la miglior alma. Assolutamente sì, il Roma City è un'ottima squadra, composta veramente da ottimi elementi, però io ho fiducia, come ripeto, l'ho detto all'inizio e lo continuerò a dire sempre, ho fiducia in questo gruppo che se coeso, se compatto, se insieme, può riuscire a dare delle belle soddisfazioni. Abbiamo quattro partite, tutte e quattro, sono quattro finali, quattro partite difficilissime, abbiamo il vantaggio, secondo me è una parola fuori posto, fammela passare questa roba qui, abbiamo comunque il privilegio di poter, almeno su due su quattro, di avere degli scontri diretti importanti, dove mentre noi invece abbiamo alcune partite, tra virgolette, abbordabili, le altre in competizione con noi le hanno abbastanza complicate. E mi auguro che il campo sia giusto, sia vero, e mi auguro di essere più bravo degli altri. Grazie al Presidente dell'Alma di Ventusano, Salvatore Guida, grazie a voi per averci seguito. Appuntamento alla settimana prossima. Grazie a tutti.